Forza Italia Sassari ha un nuovo volto, giovane, solo 31 anni. Stiamo parlando del coordinatore cittadino Cecilia Kerchi, che ha sostituito il dimissionario Manuel Alivesi, nominato coordinatore provinciale per Sassari e la Gallura dall'ex presidente della regione Ugo Capellacci. La neoeletta avrà al suo fianco una vera e propria squadra che la supporterà nel compito di far rinascere il partito in città, Gian Pietro Miscali che curerà l'ufficio stampa e Pietro Pedoni. Un team che ha già lanciato la campagna tesseramenti, ha detto Manuel Alivesi, per attrarre nelle file del centro-destra gran parte di quei 40.000 cittadini delusi che hanno disertato le urne nell'ultima consultazione comunale. Sassari deve riappropriarsi del suo ruolo di seconda città più importante dell'isola. Spetterà comunque Cecilia Kerchi il compito di creare nuove alleanze per ricostruire il centro-destra cittadino. Noi in questo vogliamo assolutamente portare avanti un progetto inclusivo con tutte le forze che la città ha da mettere a disposizione. Certo non sarà un lavoro facile soprattutto perché apparteniamo per adesso a quella parte che risulta sedere nei banchi della minoranza. Però con la voglia di fare, la voglia di costruire, secondo me riusciremo a portare avanti un progetto e speriamo che possa risultare vincente.